Il 25 aprile di ogni anno è un giorno fondamentale per la storia d'Italia e assume un particolare significato politico e militare in quanto simbolo della vitoriosa lotta di resistenza militare e politica attuate dalle forze partigiane durante la seconda guerra mondiale a partire dall'8 settembre del 43 contro il governo fascista della Repubblica Sociale Italiana e l'occupazione nazista La giornata di domani vedrà migliaia e migliaia di uomini e donne nelle piazze e nelle vie di tantissime città e paesi per le celebrazioni ufficiali di questa importante data della nostra storia nazionale E come di consueto in tutta Italia, le sezioni dell'AMPI, dell'Associazione dei Partigiani Italiani predispongono una serie di eventi collaterali e divulgativi a tema Anche la sezione fanese da dieci anni allestisce un ampio calendario di appuntamenti Questo è il decimo anno che proponiamo un cartellone di iniziative che si chiama Una mattina mi sono svegliato Il prossimo 2 maggio, al di là del corteo al quale parteciperemo domani il corteo istituzionale promosso dal comune di Fano Il 2 maggio ci sarà la presentazione della nuova edizione del libro sulle Dantinori E poi di nuovo il 14 maggio avremo un nuovo libro sempre sui neofascismi Italia Casa Pound Italia appunto si chiama Il 25 luglio prossimo a Fano ci sarà la pastasciutta antifascista che è quella dedicata alla memoria dei fratelli Cervi che apportarono e offrirono la pastasciutta a tutta la popolazione perché era coduto il fascismo Il 25 aprile quindi una festa simbolica con una valenza militare e politica socialmente elevata Arrendesi o partire Questa fu la parola d'ordine dei partigiani nella data del 25 aprile e in quelli immediatamente successivi per invocare l'aiuto e la partecipazione di militari e civili per combattere definitivamente il regime nazifascista Si festeggia una liberazione è una, non una festa, è una liberazione e ancora oggi dovrebbe essere una liberazione Cerchiamo sempre di attualizzare non vogliamo che il 25 aprile rimanga in una teca così, cioè il 25 aprile deve essere attualizzato e cerchiamo di fare questo Grazie a tutti Grazie a tutti